La 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 3 è il numero perfetto e 3 sono i pianoforti che Philip Glass, padre del minimalismo che festeggia quest'anno 80 anni, autore di composizioni che hanno cambiato la musica contemporanea, ha portato sul palco del Teatro Romano di Verona suonando al fianco di Makina Mekawa e Dennis Russell Davis per il concerto inaugurale della quinta edizione del Festival della Bellezza. Una narrazione trasversale tra le arti, la letteratura, la musica, viaggiando tra i padri del nostro sapere, da Giotto a Leonardo, da Dante a Vivaldi, fino ai rivoluzionari anni 60, ai cantautori italiani, al cinema con la bellissima Catherine Deneuve e con vari focus di ispirazione filosofica, ospiti internazionali e la volontà di aprire interrogativi in ogni ambito del sapere. Uno spaccato, diciamo così, su quanto di bello questo paese ha da offrire con una visione anche internazionale. Sì, parliamo di bellezza, parliamo di grandi artisti, di poeti, Verona la città di tre grandi poeti, con riferimento a tre grandi poeti, Catullo, Dante e Shakespeare, e consideriamo i poeti in senso lato, quindi grandi visionari e quelli grandi innovatori che poi hanno condizionato quello che siamo diventati, siamo tutti noi. Parleremo di loro per vari ambiti artistici, anche grandi ospiti internazionali, il primo Philly Glass con un concerto particolare, con anche delle riflessioni su quelle che sono state le sue esperienze artistiche e con grandi artisti come Samuel Beckett, Woody Allen, Marty Scorsese, David Bowie. E poi avremo Catherine Deneuve. Icona del cinema. Sì, una grande icona e parleremo del surrealismo e della nouvelle vague di Bunuel, Truffaut e di grandi altri maestri al cinema con cui ha collaborato. Un focus molto interessante, con un percorso anche bello culturalmente, con orchestre, letture, che è un po' attraversa il mondo dei cantautori italiani. Sì, quest'anno parliamo dei maestri allo spirito dal Medioevo con Dante, Giotto, e arriviamo fino al mondo contemporaneo. Quest'anno il focus è sugli anni 60 e 70, anni in cui i poeti torneranno ad essere molto popolari. I poeti sono i cantautori, la canzone d'autore. È una poesia legata alla musica e legata anche all'interpretazione. Abbiamo quello che è stato il primo dei cantautori, Gino Paoli, che farà un concerto con una band particolare che ripropone le sonorità di quegli anni. Poi abbiamo una riflessione di Ivano Fossati su Giorgio Gaber. Sì, anche un'orchestra. Morgan propone le canzoni di D'Andrea con un'orchestra di 26 elementi. E poi ricorderemo anche Enzo Iannacci con il figlio e Michele Serra e avremo un evento particolare su Ciudalla. Diciamo, vorremmo legare la poesia e anche all'ironia che ha contraddistinto, diciamo una satira surreale che ha contraddistinto questi artisti in questa stagione. Anni bellissimi questi anni 60 e 70, che hanno cambiato il linguaggio un po' in tutte le forme della letteratura. Ci sarà Achille Bonito Oliva, che è un po' il simbolo dell'arte della transavanguardia? Sì, abbiamo una serata che lui parlerà della transavanguardia rispetto alle vanguardie d'inizio secolo e del ruolo del critico. Lui ha avuto un ruolo importante, ha battezzato questo movimento e gli ha dato il carattere. E avremo anche altri appuntamenti d'arte con Frida Averio su Vivaldi d'Antegiotto e quelli che sono considerati come i capostipiti dell'arte e anche, diciamo, della cultura, del mondo occidentale e una riflessione di Ricalcati su cosa esprime l'arte contemporanea, che l'oggetto dell'arte sono i pensieri, i turbamenti e non più, diciamo, soltanto il paesaggio reale. Quindi letteratura, arte visiva e musica, c'è in realtà un linguaggio che li unisce? Voi avete voluto mostrarli insieme anche forse per questo motivo? Sì, abbiamo anche un appuntamento proprio che lega la filosofia e la musica sul romanticismo con Cacciari, parla di Ege, le grandi filosofie del romanticismo, la loro idea dell'uomo e dello spirito e Beethoven come grande emblema, diciamo, di questa nuova figura, di creatore. Si dice che la bellezza salverà il mondo, c'è bisogno di puntare un po' lo sguardo su questa umanità? Allora, la bellezza è una dimensione fondamentale per tutti, è anche, diciamo, la propensione più forte e anche un'elevazione spirituale verso cui tutti cerchiamo di tendere. E questo è un po' il segreto anche del successo di un festival che non è nato da moltissimo tempo, però che si è già molto affermato. Sì, noi siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre avuto eventi esauriti, anche quest'anno abbiamo già superato come adesione le 30.000 presenze e anche il format sono riflessioni culturali unite al patos dello spettacolo e vediamo che hanno grande riscontro, anche legato ai contesti che sono di grande suggestione come il Teatro Romano, il Giardino Giusti. Due settimane di appuntamenti con teatri già quasi esauriti e 30.000 presenze che raccontano come questa formula abbia catturato il cuore del pubblico confermando la città di Verona come palcoscenico nazionale della cultura. Abbiamo detto che la bellezza è il centro di tutto, il rapporto con il pubblico è una delle armi segrete di questo festival. Sì, e rimane anche un po' segreta perché anche per noi, devo dire, siamo arrivati alla quinta edizione e ogni anno c'è una maggiore partecipazione, diciamo sia come numeri ma anche come attenzione, come curiosità. Quindi diciamo si crea l'aspettativa, naturalmente è difficile ma speriamo di in un certo senso esserne all'altezza ma soprattutto così c'è curiosità e i numeri crescono non solo poi tra l'altro a Verona dove diciamo è il centro, la sede del festival ma anche da fuori, c'è molta partecipazione anche dalle altre città e probabilmente anche un pubblico internazionale. Allora, ho visto che avete anche un incontro molto bello dedicato proprio alla bellezza come segreta legge della vita con Umberto Galimberti. Sì, Galimberti tra l'altro possiamo considerarlo un amico, diciamo, dell'associazione, viene da AIDEM alla Rassegna Invernale e poi al festival da sempre, da quando l'abbiamo fondata. E quest'anno sì, ha pensato a una riflessione specifica sulla bellezza e quindi sul tema del nostro festival. Credo che sarà particolare, è molto attesa appunto e credo sarà anche molto affascinante come è capace lui. E' un segreto anche un po' che le sezioni sono diverse ma dialogano proprio tra loro, lei si occupa particolarmente di quella dedicata alla letteratura, che cosa proponete quest'anno? Sì, abbiamo diciamo un po' un mix e si cerca anche di unirle, quindi da letteratura, filosofia, cioè gli scrittori quest'anno abbiamo comunque Massimo Recalcati e appunto Umberto Galimberti e Cacciari, quindi si rimane un po' nel mondo della filosofia. Però Alessandro Piperno, accettato, torna a trovarci perché era già venuto un paio di anni fa e farà una sua riflessione su, diciamo, lo scontro fra titani, in un certo senso, chi ha ragione tra Stendhal e Flaubert. Quindi provocazioni anche nel mondo dell'arte, manca un po' questa riflessione, mancava una formula così nel panorama? Sì, probabilmente siamo riusciti o stiamo riuscendo un po' a intercettare, ecco, anche un bisogno, perché è sempre difficile capire dove, diciamo, si può orientare e dove arrivano le nostre aspirazioni, i nostri desideri, quello che ci piacerebbe realizzare e naturalmente anche incontrare l'aspettativa o quello che può interessare al pubblico. E finora ci sembra che l'equilibrio sia abbastanza buono, insomma, vediamo, ma adesso siamo agli inizi, quindi c'è sempre molto pathos di attesa, ecco, prima della... Aspettiamo tutti a Verona, allora. Sì, e vi aspettiamo e speriamo bene. Sì, e vi aspettiamo.